Si accende solo sui contenziosi il Consiglio Comunale di Bitonto convocato per discutere di debiti fuori bilancio e poco altro. Ad aprire la seduta è però la lunga serie di auguri al Sindaco di Bitonto Michele Abaticchio e al Consigliere Comunale del Partito Democratico Franco Natilla, eletti al Consiglio Metropolitano di Bari. Il clima cordiale si interrompe con l'avvio effettivo dei lavori e con le lamentele da parte dei consiglieri d'opposizione nei ritardi di Sindaco e Assessori a fornire risposte alle interrogazioni. Il Consiglio si incaglia già sul primo punto, incentrato sulla cessione da parte del Comune di un suolo fra Via D'Angio e Via Giovinazzo. Una vicenda che parte da lontano, dal 1953, quando l'Istituto Nazionale di Assicurazione delle Malattie, il soppresso INAM, chiede al Comune di Bitonto l'accessione gratuita di un suolo da utilizzare per la costruzione di un fabbricato da destinare a poliambulatorio, una struttura in realtà mai realizzata che aveva spinto il Comune, alcuni anni dopo, a cedere il suolo allo IACP, che in breve tempo realizzò alcuni edifici di residenza popolare. Impossibile adesso però per i residenti riscattare gli appartamenti a causa del contenzioso ancora in corso dopo decenni. Residenti che dovranno aspettare ancora, visto che il Consiglio Comunale decide di non decidere e rinvia il punto in attesa di un parere da parte dell'Avvocatura Comunale. Liquidata positivamente col voto unanime del Consiglio la questione del regolamento sul procedimento amministrativo, i lavori si sono concentrati sui debiti fuori bilancio. Ritardi e imprecisioni sulla redazione dei contenziosi sono stati rilevati dal consigliere d'opposizione Paolo Intini, che ha costretto l'amministrazione a ritirare 5 dei 21 debiti fuori bilancio portati in Consiglio. L'ex candidato sindaco ha criticato anche alcune funzioni del portale online per la gestione dei tributi, che dovrebbe impedire il pagamento della Tasi sugli F24 sotto i 12 euro esentati per legge, ma che invece lo consente. Un servizio inutile per Intini, visto che rappresenterebbe solo un supporto alla redazione dei modelli e non si assume responsabilità sugli errori commessi dallo stesso portale. È stato però il mancato appello proprio su uno di questi contenziosi a scatenare poi un duro faccia a faccia fra il consigliere del Partito Democratico, Francesco Ricci e l'assessore a ramo Domenico Nacci. Noto l'evanescenza e l'inefficienza dell'assessorato al contenzioso, ha attaccato il capogruppo del PD. Invece di farsi fotografare alle inaugurazioni dei campetti, si occupi di queste faccende. Se vuoi collaborare con me, gli ha risposto secco Nacci, fai l'uomo e non il pagliaccio, a impedire che la situazione degenerasse l'intervento di Palmieri. I problemi personali risolveteli fuori da quest'aula, ha detto il presidente della Sise. Riportata la calma in consiglio, i lavori sono continuati senza particolari intoppi. La massima Sise cittadina si è impegnata però ad assecondare la richiesta del consigliere indipendente Francesco Rutigliano, che ha chiesto l'istituzione di una commissione trasversale per l'analisi dei debiti fuori bilancio, che impegnano una parte cospicua delle risorse economiche comunali.